Mister Barbarbella per la Esernia un punto a Baranello, salite a coda 4 in classifica in generale, che gara è stata? L'importante è stato muovere la classifica e arrivare a 4 punti, è stata una partita molto tattica perché loro poi muovono bene la palla, vanno a cercare due contro uno sulle fasce quindi siamo stati bravi a leggere bene la partita, essendo giovani però siamo riusciti a capire dove potevano crearci dei problemi. Tanti giovani in campo, qualche elemento più esperto, vi attende un'avventura in eccellenza sicuramente non facile ma è anche questo il bello del calcio? Sì, sicuramente dovremmo lavorare tutti i giorni e migliorare, io credo che in queste categorie la miglior cosa è il lavoro settimanale perché i ragazzi crescono individualmente e quindi crescendo loro individualmente cresce anche la squadra. Dal punto di vista tuo personale, sei tornato a Iserni dove hai giocato anche da calciatore metterai a disposizione dei ragazzi la tua esperienza fatta in tanti anni di calcio? Sì, l'idea della società quando ha scelto me è stata questa, io a Iserni ho vissuto 15 anni quindi sono tornato volentieri e motivato. Dobbiamo solo, ripeto, lavorare e far crescere questi ragazzi che hanno tante qualità tranne l'esperienza, ma l'esperienza si fa solo giocando. Sicuramente l'obiettivo primario è la salvezza, partite contro il Vasto Girardi in generale che campionato ti aspetti? Allora, il campionato per noi, ripeto, dobbiamo lottare partita su partita. Del fatto del Vasto Girardi sicuramente è una squadra che lo scorso anno stava in Serie D però è retrocessa quindi non penso che abbiano i giocatori dello scorso anno quindi anche loro hanno dovuto rimodulare tutto alla rosa. Potrebbe essere questo un piccolo nostro vantaggio anche perché il retrocede fa sempre male ci siamo passati tutti chi sta nel calcio quindi proviamo a portare magari questa situazione a nostro favore noi veniamo da un campionato vinto, vediamo di portare quell'euforia che ci spetta. Luca Siravo, centrocampista dell'Esernia Fraterna. Luca, una uscita molto utile. Allora, siamo stati bravi, siamo stati bravi soprattutto, siamo partiti bene abbiamo fatto i primi tre punti contro il Calavindola, siamo venuti qua, abbiamo fatto la nostra partita un pareggio che ci avvicina anche alla qualificazione in Coppa e ora pensiamo al campionato, alla prima partita contro il Vasto Girardi sabato. Sì, parlavi del campionato, quali sono le ambizioni di questa Esernia? Siamo tutti ragazzi, siamo bravi, siamo compatti, siamo una bella squadra e tenteremo di dare una proposta comunque di salvarci e di restare nella categoria.